vergogna bella buona ecco cos'è è una vergogna e dovete vergognarvi tutti dovete vergognarvi è una vergogna e l'ha visto tutti cos'è successo 2 domeniche fa a Torino l'ha visto tutti cos'è successo è una vergogna ziraldo perchè se tu giochi male che devi perdere che se puoi vincere che sociedi male che devi vincere che devi perdere bisogna sempre vincere quando si può vincere Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Arrigo. Facchini. Arrigo, non c'è Giraudo, calmati. Arrigo, calmati. E tu, io lo sai cosa voglio dire. Perché io dico questo, vorrei vedere te se ti fosse capitato a te o che fosse capitato a me. Che cosa avresti fatto, Giraudo? Non c'è Giraudo, non c'è Giraudo. Avresti preso delle Fiat Stilo e le avresti sparpagliate tra gli arbitri così. e gli arbitri ti avrebbero detto. No grazie, vi favoriamo lo stesso, basta che non ci date la Stilo, veramente. Non c'è Giraudo. Non c'è Giraudo. Fatti, non c'è Giraudo. Non c'è Giraudo. Chi c'è, Bettega? No, non c'è neanche Bettega. A parte gli arbitri della Juventus, chi c'è? Non c'è nessuno. Allora, chi c'è? Non c'è nessuno, tre se che, c'è l'IP? C'è tre se che? Tre se che, vorrei vedere te se ti fosse capitato a te o che fosse capitato a me. Tu sei pelato con la lina, come me! E io voglio dire questo, guarda, guarda, guarda. Se il Lippi, il Lippi si è presentato in campo così, se fossi stato io al posto che fosse capitato a me che fosse capitato a lei, io ce l'ho entrato, se avrei detto, ragazzi, guarda. Allora io ti dico, allora io non accetto questa vittoria. Allora io fossi stato in Lippi e avrei detto, non accetto, sono sportivo, voglio vincere con le mie forze. Datemi tre rigori che vinco con le mie forze. Ziraudo, io dico questo, che se fossi capitato a te, 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 no perché, Ziraudo, l'avvocato Ziraudo, calma, l'avvocato Ziraudo. La lenza è uguale per tutti quelli della Juventus. Gli altri vandano a chiedere. Basta. Vogliamo superare questa cosa. Vorrei vedere se ti fossi capitato a te. Basta. Basta. Vogliamo superare questa cosa. Enrico, siamo nati lo stesso giorno? Facciamo amore, allora. No. E il caso me ne frega, allora. La mussì, l'ho battuto fuori la mussì. Tacchi Nardi ha tirato un calcio nei Maroni alla mussì e l'ho sbattuto fuori la mussì. Sai cosa vi dico, ragazzi? Sapete cosa vi dico? che io in questo calcio non mi riconosco più, 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 più. Non cercatemi più. Io me ne vado, non cercatemi più. Fatemi il bonifico, ma non cercatemi più. Va bene, basta. No. Ovviamente cercato? No. Però il bonifico me lo fate? Sì, te lo faccio. Vorrei vedere se ci fossi capitato a te qualche cosa ci fossi capitato a me. Vorrei vedere se ci fossi capitato a me. Molto supera.